Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto fotocamere digitali Reflex Nikon D7000 obiettivo. Con la garanzia del produttore di due anni. La Reflex D7000 de Nikon es una camera ergonomica Y resistente para todos los públicos. Este Reflex todoterreno in aleación de magnesio cuenta con dos asas de goma para migliorare la gara Y el manerio. La D7000 tiene un sensor CMOS D16. 2 megapixeles Y in esta ocasión viene con un obiettivo AFS 510-18105 VR para responder a las necesidades M a 100 graves comunes gracias a su gran angular de 27 mm. Questo video partecipa al programma Affiliazione Amazon Europa, dalla pubblicità e link all'Amazon IT. Per maggiori dettagli e ottenere un grande su Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie per la visione.